Dopo la scorsa stagione in prestito, il giovane talento dell'Inter è pronto a dare una svolta significativa alla sua carriera, questa volta con un contratto a titolo definitivo al Siviglia. Le trattative tra il club italiano e quello andaluso sono andate avanti in modo sostanziale, con i dettagli in fase di aggiustamento per formalizzare il trasferimento. Secondo le informazioni di Sky Sport, il trasferimento del giocatore è praticamente concluso, mancano solo pochi ultimi dettagli prima dell'annuncio ufficiale dell'accordo. L'operazione, precedentemente stimata in un valore di 2 milioni di euro, ha subito un aggiornamento significativo. Adesso il valore del trasferimento è di 5 milioni di euro, a testimonianza dell'apprezzamento del giocatore nel tempo. Inoltre l'Inter ha garantito una clausola importante nel contratto, una percentuale significativa sulla futura rivendita del giocatore, prevista al 50%. Metti mi piace al video e iscriviti al canale per tutte le novità sull'Inter. Questa mossa è vista come una grande opportunità sia per il giocatore che per il Siviglia. La scorsa stagione, l'atleta ha avuto la possibilità di mostrare il suo talento e il suo potenziale durante il periodo in prestito. Il centrocampista, classe 2002, ha mostrato una costante evoluzione e una capacità di adattamento allo stile di gioco della Liga, determinante per il rinnovato interesse del club andaluso. Quel giocatore è Luce Nagumé, ha giocato un ruolo importante durante il suo prestito al Siviglia. Le sue doti di centrocampista, la sua visione di gioco e la sua capacità di distribuire la palla sono stati punti salienti che hanno impressionato lo staff tecnico e i tifosi. La decisione di rendere definitivo il suo trasferimento riflette la fiducia del Siviglia nel suo potenziale e nel contributo che potrà portare alla squadra a lungo termine. L'inclusione di una percentuale di rivendita così elevata nell'accordo potrebbe essere vista come una strategia intelligente da parte dell'Inter, garantendo che il club possa beneficiare finanziariamente da qualsiasi futuro successo e trasferimento di Nagumé. Ciò dimostra anche la fiducia dell'Inter nelle continue potenzialità di crescita del giocatore, nella speranza che possa diventare ancora più prezioso in futuro. Con il trasferimento imminente, i tifosi dell'Inter potrebbero avere sentimenti contrastanti. Da un lato, perdere un giovane talento può essere visto come una perdita. D'altro canto, la vendita per una cifra consistente e la garanzia di un futuro ritorno finanziario danno un senso di sicurezza e di vantaggio economico al club. Ora non resta che attendere la conferma ufficiale del trasferimento e seguire le prossime tappe della carriera di Agumé al Siviglia. E tu, tifoso dell'Inter, cosa ne pensi di questo trasferimento? Lascia la tua opinione sulla partenza di Luce Nagumé e sul futuro del nostro centrocampista al Siviglia e metti mi piace al video per scoprire altre novità dalla squadra nerazzurra.